Comiso, lontano dal comunale in questi giorni per far rifiatare il fondocampo amico che le ultime piogge avevano reso in condizioni estremamente precarie, Borgese ha così portato la truppa a pedalino per preparare la delicata sfida contro la taglia di Brolo, avversario fino a qualche tempo fa in lotta per la promozione, ma oggi precipitata a metà classifica. Per il verde-arancio si tratta del primo degli spareggi salvezza da qui alla fine. Speriamo, ma non penso che la distrazione nel calcio può durare 5-10 minuti, però poi il valore di ogni squadra sarà quello che rispecchia il campionato. Qualcuno dice, anzi ho letto che è l'ultima spiaggia, ma non ancora il campionato è lungo. Per andare a spiaggia ci vogliono ancora 3-5-6 mesi, luglio-agosto, quindi penso che sia una partita importante, come lo è stata ogni partita che abbiamo fatto quest'anno, però purtroppo per delle vicissitudini particolari non abbiamo ottenuto dei grandi risultati, però penso che le ultime spiagge saranno quelle delle ultime 2-3 partite. Noi ancora abbiamo 14 partite da giocare, in queste 14 partite 8 ne abbiamo in casa, abbiamo due derby che non si possono considerare fuori casa, quindi penso che ancora noi abbiamo la possibilità quantomeno di poter giocare la posizione ottimale nei play-out e poi è chiaro che vedremo quello che succederà, ma da parte nostra penso che stiamo dimostrando di credere nella salvezza e poi alla fine del campionato si tireranno le somme.